L'ultima tragedia ieri nel veneziano, le regole riguardano i datori ma anche i lavoratori stessi. Giornata di lutto cittadino domani ad Anguillara, in mattinata i funerali dell'anziano caduto con l'auto nel Gorzone, al pomeriggio solenni funerali di Stato per l'agente Zorzino, annunciati il capo della polizia e il presidente della regione. 28 influencer veneti promuoveranno la regione sui social network per farla conoscere al di fuori dei suoi territori, il turismo, prima industria della regione, varca i confini della rete e cerca di intercettare anche i giovani. L'invasione straniera colpisce anche l'artigianato, per esempio il vetro artistico di Murano, che denuncia crescono i prodotti contraffatti, mentre c'è un crollo dell'occupazione. In 30 anni persi 5.000 vetrai. Sottolineiamo come le retribuzioni italiane non solo non consentano di far fronte appieno al costo della vita, ma siano inadeguate anche al lavoro svolto. Alice Bragantini Gli italiani si sentono europei. L'Italia è trattata alla stregua degli altri stati membri dell'Unione. La grande economia italiana è vessata da quella di altri paesi europei. E' questo il punto. Molti italiani non si sentono più europei per tanti motivi, ma soprattutto per questioni salariali. Proprio gli stipendi nel bel paese sono tra i più bassi d'Europa e sono diminuiti negli ultimi 30 anni. Secondo dati Eurostat, tra gli stati dell'Unione Europea l'Italia è l'unico in cui i salari sono scesi tra il 1990 e il 2020, precisamente del 2,9%. Con l'inflazione che continua a crescere, gli italiani perdono quindi sempre più potere d'acquisto. La paga oraria media lorda nel 2021 è stata di 15,55 euro contro i 16,9 euro dell'area euro, i 19,66 della Germania e i 18 della Francia. La retribuzione media a parità di potere d'acquisto tra tutti i paesi del mondo da noi è poco superiore alla soglia dei 35.000 euro. La media OX è però superiore ai 46.000 euro. L'indagine dell'osservatorio futura della CGL ci conferma la percezione di graduale impoverimento e la sensazione per l'86% del campione di un costante divario tra le proprie retribuzioni e quelle del resto dei paesi. Il perché di questa situazione? Beh, innanzitutto nel nostro paese si registra una difficoltà a rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro in tempo debito, cioè alla loro scadenza. Spesso intercorre troppo tempo da un rinnovo all'altro e questo evidentemente contribuisce a non allineare i redditi alle necessità del mantenimento della famiglia, dei lavoratori e delle lavoratrici. I pensionati e i dipendenti privati si confermano i più svantaggiati. Come invertire questa tendenza? Fare in modo che questa riduzione delle tasse da pagare per i lavoratori possa essere in qualche modo coordinata con l'aumento del costo della vita. Questa invece è una soluzione che può fare la politica con una riforma fiscale che finalmente possa far beneficiare la più grande platea di cittadini di questo paese. Ci sono però tanti altri irrisolti problemi nel mondo del lavoro. Primo fra tutti quello della sicurezza. La cronaca ce lo racconta purtroppo tutti i giorni con infortuni, molto spesso anche dalle serissime conseguenze per i lavoratori. Secondo gli esperti serve intervenire su prevenzione, informazione e addestramento del personale. Inarrestabile la conta degli infortuni mortali sul posto di lavoro in itinere. In Veneto nel 2022 la conta ha raggiunto quota 113, mentre da inizio nuovo anno il dato sembra abbia già raggiunto quota 30 vittime. Siamo la seconda regione in Italia dopo la Lombardia. Stiamo parlando di lavoratori, non di numeri ma di uomini, donne, di tutte le età, persone uscite di casa per lavorare e che non sono più tornate. Inoltre non possiamo dimenticare altri due aspetti, le denunce di infortunio che spesso non vengono formalizzate per paura di perdere il posto di lavoro. Quasi 700.000 infortuni denunciati. I numeri delle infortuni mortali siamo sempre oltre i mille, siamo intorno ai 1100. E purtroppo questi numeri non sono esaustivi perché questi sono i numeri solo di denunce a ENAIL. Ma noi sappiamo che ci sono molte categorie professionali, a partire dai vigili del fuoco, dalle forze armate, dalle forze dell'ordine, dai disoccupati, dai lavoratori in nero, dalle partite di IVA che non denunciano a ENAIL. E le malattie professionali che limitano la qualità di vita e in alcuni casi la accorciano. Quest'anno siamo arrivati a 73.000 denunce. E noi immaginiamo che chi è soggetto a malattia professionale ha avuto dei danni irreversibili per la propria salute per cui da quel momento avrà delle condizioni materiali di vita peggiori che lo porteranno a una vita più breve. La questione ruota attorno a tre parole, prevenzione, informazione e addestramento. Unici rimedi alla triste piaga. Perché le leggi ci sono in Italia anche se sembra puntino più in favore dei titolari che dei lavoratori. Il decreto legislativo 81 che è una delle leggi, delle migliori leggi in tutto il mondo. Le leggi però bisogna applicarle e bisogna potenziarle. Quello che abbiamo visto, che stiamo assistendo, che il legislatore pensi a una riduzione delle tutele per lavoratori e lavoratrici attraverso una contestuale riduzione degli obblighi a carico del datore di lavoro. Dobbiamo anche tutelare i lavoratori stranieri che molto spesso arrivano da realtà in cui le norme di sicurezza sono inesistenti. Lavoratori spesso disposti a correre seri rischi pur di cambiare le proprie condizioni di vita. Se pensiamo alle nuove figure che entrano nel mercato del lavoro, siano essi migranti, siano essi giovani, che non hanno mai ricevuto adeguata formazione, né tantomeno informazione e addestramento, queste sono le figure più fragili di cui non vorremmo poi leggere l'esito sul giornale della loro prestazione. Apriamo la pagina della cronaca, cominciamo con la tragedia avvenuta questa mattina nei cieli di Guidonia, vicino a Roma, dove due piloti a bordo di ultraleggeri dell'aeronautica militare nel corso di un'esercitazione che impegnava quattro velivoli in tutto sono morti dopo essersi scontrati mentre solvoravano un'area abitata. Le vittime sono il tenente colonnello Cipriano e il maggiore Marco Meneghello del sessantesimo stormo di Guidonia. Uno degli ultraleggeri è caduto in un campo in aperta campagna, l'altro invece è precipitato su un'autovettura parcheggiata tra le case. Proprio alla guida di quest'ultimo c'era il maggiore Meneghello, veronese di Legnago, che aveva all'attivo 2600 ore di volo e pilotava il velivolo schiantatosi appunto a ridosso delle abitazioni. Come ha spiegato il procuratore di Tivoli, l'ha pilotato fino all'ultimo istante dove avrebbe potuto recare il minor danno possibile. Diversamente, ha spiegato il magistrato, la caduta sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime. Un gesto davvero eroico che purtroppo si accompagna ad una terribile tragedia. Come una tragedia è ovviamente quella che ha colpito il comune intero di Anguillara Veneta che si prepara domani ad una giornata di sentito lutto cittadino. Anguillara si prepara a dare l'ultimo saluto a Domenico Zorzino e Valerio Uoso, morti annegati lo scorso venerdì tra le acque del canale Gorzone. Le esequie, su richiesta delle famiglie delle vittime, si terranno lo stesso giorno ma in momenti differenti. Alle 10.30 quelle del pensionato 75enne che era finito in canale con la sua auto. Alle 15.30 poi sarà il turno dei funerali di Stato dell'agente di polizia, morto nell'adempimento del dovere, cercando di salvare il concittadino. Per questo è prevista la presenza di numerose autorità, dal capo della polizia Giannini al presidente della regione Zaia, passando per il presidente della provincia Giordani. In mattinata la salma di Zorzino partirà dall'ospedale di Schiavonia, escoltato dai motociclisti della stradale e dai colleghi del reparto prevenzione e crimine, arriverà alla palestra comunale, dove sarà allestita la camera ardente fino al momento dei funerali, che saranno celebrati nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Per tutto il giorno ad Anguillara sarà lutto cittadino, bandiera a mezz'asta negli edifici pubblici, sospese tutte le manifestazioni, serrande abbassate negli orari delle due cerimonie. Una tragedia tristemente nota e che ha commosso tutto il territorio. Venerdì pomeriggio Valerio Buoso con la sua auto era finito tra le acque del Gorzone. Domenico Zorzino, che passava di lì a spasso con i suoi cani, si era tuffato nel tentativo di salvare l'anziano. I due sono stati ritrovati dai sommozzatori dopo 24 ore, ancora abbracciati. Torniamo adesso a parlare di Siria e Turchia. Parliamo oggi dei bambini siriani cresciuti tra la miseria e la guerra scoppiata nel 2011. Torniamo ad aggiornarvi. È una situazione drammatica. È questa la parola che meglio descrive le condizioni del popolo turco e siriano colpiti duramente dal sisma lo scorso 6 febbraio 2023. Non siamo noi di TV7 a utilizzare questa parola, ma tutti gli operatori umanitari impegnati nel prestare soccorso alle popolazioni di quei luoghi martoriati durante i quotidiani collegamenti in diretta con il nostro Tg delle ore 12 e 30. A pagare il prezzo più alto, come testimonia Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia, sono i bambini che nel caso dei siriani non conoscono che la sofferenza fatta di guerra, carestie, colera e miseria. Nella zona turca ci sono un milione e mezzo di bambini di fatto ancora sfollati, 500.000 persone sfollate in Siria. Ci sono ragazzini in questa zona del territorio che purtroppo a 12 anni non hanno ancora mai visto se non disastri, se non catastrofi. E noi siamo intervenuti con i nostri team immediatamente, proprio perché la situazione, lo voglio ripetere, se ne parla poco, non dobbiamo dimenticarlo, è abbastanza grave. Unicef, presente dallo scoppio del conflitto interno in Siria nel 2011, è stata tra le realtà di soccorso più celeri, anche in questa occasione introducendo con qualche difficoltà gli aiuti attraverso il Libano e gli stati confinanti, ma raggiungendo l'obiettivo, quello di fornire assistenza a persone a cui manca tutto da sempre. Qui parliamo di un conflitto dimenticato, ma che è durato 12 anni e che ha provocato un numero illimitato di morti. Quindi immaginate a tutto questo se aggiungiamo come somma un terremoto, che cosa può voler dire? La situazione in Siria era e resta molto, molto complicata. C'è bisogno di tutto. Sta scoppiando una nuova epidemia di colera. Ci sono famiglie intere senza l'acqua. Stiamo cercando di procedere alle vaccinazioni, però, ripeto, gran parte dei materiali erano già preposizionati. Siamo potuti intervenire rapidamente. Voltiamo pagina adesso. Parliamo della Regione del Veneto e anche della promozione turistica, perché la Regione punta a promuovere la sua identità, le sue tradizioni e punta a farlo attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, a cominciare dai social network. Un esercito di creators per promuovere il Veneto, che non è proprio la stessa cosa rispetto a influencer, anche se molti di fatto sono talmente conosciuti da essere considerati tali. La differenza principale è che un influencer è una persona che ha certamente tanto seguito, ma non sempre sa creare contenuti in modo innovativo. Il creator invece si specializza nel creare nuove forme di contenuto, Reels, TikTok, contenuti appunto che parlano un linguaggio nuovo e questo fanno i creator, hanno quindi una grande base tecnica. Sono loro i Magnifici 28, vengono da tutte le sette province venete e ognuno di loro si distingue per un filone comunicativo tutto suo. C'è chi parla di turismo, chi di viaggi, chi di cibo, chi promuove il dialetto e per i prossimi mesi saranno i protagonisti di una sfida. Divisi in squadre sulla base delle province di provenienza, si sfideranno a suon di contenuti digitali. Vincerà la squadra che sarà riuscita a distinguersi nella comunicazione e nei contenuti, a coordinare il progetto, l'influencer veneto per eccellenza, Canale il Canal. L'obiettivo ovviamente è promuovere il Veneto, come dei veri ambasciatori. Parlano comunemente e quotidianamente di Veneto nei canali social. Adesso cerchiamo di organizzare tutta la partita e diventerà veramente un'apoteosi della comunicazione e ovviamente della promozione del Veneto, della sua identità, della sua storia, della cultura, delle tradizioni. Il punto stampa Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, è stato anche l'occasione per raccontare una bella iniziativa che ha visto per protagonista l'ex ciclista Vicentina Alessandra Cappellotto. Con la sua associazione sportiva dilettantistica Road to Equality, è riuscita a portare in Italia un gruppo di cicliste afghane salvandole dal regime talebano. Le ragazze ora sono integrate in Veneto, studiano, lavorano e continuano ovviamente a pedalare, sognando le Olimpiadi 2024. Bella storia di ragazze, iniziata esattamente la festa della donna di due anni fa, quando loro correvano libere a Kabul, una gara di ciclismo femminile che noi abbiamo aiutato ad organizzare ed oggi, due anni di distanza, quindi la fuga da Kabul, i talebani che invadono l'Afghanistan e loro che scappano in terra Veneta hanno trovato veramente una nuova casa, una nuova famiglia, hanno trovato accoglienza. Ai confini della regione invece, nel bellunese e più precisamente a Lamon, parte il cantiere di un'infrastruttura strategica, una nuova galleria per collegare Veneto e Trentino. Via i lavori per la realizzazione della galleria Palarossa a Lamon nel bellunese, lungo la strada regionale 50, che collega Fonzaso con Predazzo. Si tratta di un'opera strategica per il territorio, fondamentale per migliorare la viabilità sia dal punto di vista della circolazione che da quello della sicurezza. La galleria lunga un chilometro che mettesse in sicurezza la SR50, che di fatto corre lungo la montagna, quindi ha notevoli rischi e problemi di frane. La galleria sarà lunga 950 metri, di cui 85 in galleria artificiale all'imbocco sud e altri 17 in artificiale all'imbocco nord. Sarà dotata di illuminazione, ventilazione, spegnimento idrico antincendio e semafori agli imbocchi. Ci saranno anche due piazzole di sosta, una per ogni senso di marcia. Costo totale 25 milioni di euro equamente distribuiti tra provincia di Trento, provincia di Belluno e Anas. Obiettivo inaugurare l'opera entro l'estate del 2024. È un intervento che era molto atteso dal territorio, di fatto è la strada regionale che pette in collegamento il Feltrino con il Premiero, quindi la provincia di Belluno e quindi la regione Veneto con la provincia autonoma di Trento. Ve l'avevamo annunciato nelle edizioni di ieri, oggi è partito a Padova il corso che coinvolge i baristi della città e la Polizia di Stato. Imparare a difendersi dalle aggressioni, ma non solo. Vediamo com'è andato il primo appuntamento. Gestire al meglio le situazioni potenzialmente pericolose in modo tale da impedire che degenerino è l'obiettivo del corso organizzato dall'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova rivolto a titolari e dipendenti di locali pubblici. Abbiamo, come credo tutti, delle situazioni, i clienti che magari o arrivano già avanti col bere, che magari fanno battute, arrivano anche a creare un attimo di confusione, a disturbare altri clienti, spostando anche nelle piccole cose, tavoli, sedie. Ci possono essere dei casi nei quali è bene sapere fin dove possiamo arrivare e come ci dobbiamo comportare. Premesso che noi non abbiamo mai vissuto delle situazioni particolarmente difficili, però in qualsiasi momento ti puoi trovare davanti ad un momento del genere. Pertanto, parlare con persone competenti che ti spiegano che cosa ti può succedere e come è meglio che tu ti ponga nei confronti di queste situazioni, io credo che sia la cosa migliore da fare. Il percorso formativo è tenuto da agenti della Questura. Negli ultimi mesi in tutta Italia si sono verificati decine di episodi ad anno dei pubblici esercizi e degli operatori che vi lavorano, danneggiamenti a locali e arredi, violenze, rapine e minacce varie. I pubblici esercizi sono luoghi di ritrovo, spaccati della società, in cui si socializza e si fa gruppo. Il pubblico esercizio per natura è il luogo in cui le persone vanno più spesso, più frequentemente e con più tempo, diciamo dedicano più tempo all'interno di questi pubblici esercizi, quindi è fisiologico, magari complice anche la somministrazione di alcol o bevande alcoliche, di cui comunque l'esercente è sempre garante, giova a ricordare anche questo, può succedere qualche episodio di questo tipo. Nell'epoca post-covid c'è stata tutta questa voglia, diciamo, repressa di socialità che può sfociare anche in episodi patologici come questo, però non mi sentirei di lanciare un grido d'allarme, diciamo che è un fenomeno in crescita, quindi andiamo in una logica preventiva. Da qui la necessità di questo programma di formazione, una proposta accolta con entusiasmo dei gestori dei locali padovani, tanto che sarà replicata non solo a Padova, ma probabilmente anche in altre città. Torniamo a parlare di economia e imprese, perché l'invasione straniera esiste anche fra i piccoli, gli artigiani e oggi approfondiamo allora il mondo delle imprese impegnate nella produzione artistica del vetro di Murano. Eccellenza, creatività e originalità. Sono gli artigiani quei piccoli che portano il Made in Italy nel mondo. I settori sono i più disparati, dal tessile al legno, dall'alimentazione all'edilizia e poi c'è l'artistico in cui spicca il mondo dei vetrai dell'isola di Murano. È opinione comune che investitori stranieri, principalmente cinesi, abbiano invaso l'isola. In realtà rimangono a presidio oltre 50 tra fornaci e aziende artigiane. Un lavoro antico che si tramanda da generazioni, ma che oggi soffre soprattutto in termini occupazionali. Circa 6.000 persone hanno lavorato nell'industria del vetro negli anni 90. Solo un decennio dopo il numero è crollato a 2.000, oggi ad un migliaio. Il lavoro dei mastri vetrai subisce anche la contraffazione con il finto vetro di Murano, venduto in Italia di ignari turisti, ma soprattutto all'estero. Nasce così l'esigenza di un certificato di autenticità tracciabile per distinguere il vero vetro di Murano dai fake. Ogni cliente attraverso il bollino che noi apponiamo sui nostri oggetti possa avere tutta una serie di informazioni, tra cui Data Matrix, attraverso lo smartphone o attraverso internet su dove è fatto il prodotto, chi l'ha fatto eccetera eccetera. Noi non vogliamo imporre il fatto di dover vendere solo vetro di Murano. Noi vogliamo solo avere quel rispetto che ci spetta. Oggi gli artigiani del vetro di Murano favoriscono la qualità a scapito del volume, proponendo prodotti di alta gamma realizzati a mano, che ben si distinguono dai souvenir economici accessibili da chiunque, ma soprattutto dai contraffattori. Sicuramente la strada da intraprendere è quella della qualità del prodotto e dell'alzare quello che è il livello del prodotto stesso. Per clienti che hanno anche una capacità, una potenzialità distesa molto grande, molto ampia. Nel senso che ormai andare a fare la guerra su prodotti un po' cheap, di bassa lega, nel quale magari si parla molto più di serialità, di numeri eccetera eccetera, a mio parere è una partita persa. Torniamo a parlare di siccità, perché tutti sappiamo gli effetti che questa ha soprattutto sull'agricoltura e sul livello dei fiumi in questo periodo. Ma la domanda che abbiamo posto agli esperti oggi è rischiamo anche nella pianura padana la situazione che magari avviene già in alcune località del sud a lungo andare, cioè che uscirà meno acqua potabile dai nostri rubinetti. Sentite cosa ci hanno detto. Una gestione migliore della risorsa idrica è necessaria per fronteggiare la siccità. Da una parte bisogna pensare a come immagazzinare i flussi di acqua nel sottosuolo e dall'altra occorre gestire al meglio le risorse disponibili. A dirlo sono i geologi del Veneto analizzando la situazione idrica a cui siamo sottoposti. Stiamo assistendo a un vistoso calo del livello dei fiumi. Le precipitazioni sono meno frequenti e più intense, tanto che i terreni ormai secchi non riescono ad assorbire l'acqua. Non è tanto la quantità d'acqua che abbiamo a disposizione che è cambiata, ma è come quest'acqua entra nel ciclo che va a alimentare le nostre falde. Perché le nostre falde hanno anche loro, come i corsi d'acqua, un loro ciclo di ricarica anche piuttosto lenta, quindi che va su molti anni e questo è anche un grosso vantaggio perché permette di avere la risorsa anche in anni siccitosi. Secondo i geologi quindi in Veneto l'acqua potabile che arriva nelle case non è a rischio razionamento, ma questo non esclude la necessità di interventi per gestire al meglio la risorsa evitandone il malutilizzo o lo spreco. Noi abbiamo dei fenomeni che sono naturali per cui si infiltra l'acqua nel sottosuolo. Possiamo favorire questi fenomeni, possiamo intervenire anche più in generale, con i normali bacini d'invaso, però oltre ai bacini d'invaso superficiali ci sono proprio il sottosuolo che può funzionare come bacino d'invaso naturale in cui noi possiamo favorire l'infiltrazione. Ci sarebbe tanto da fare sulla modalità di gestire le acque. Per esempio nella fascia della media pianura c'è ancora l'abitudine dannosa di lasciare i pozzi cosiddetti artesiani, quelli che per pressione naturale della falda permettono alla fuoriuscita dell'acqua direttamente dal pozzo, di lasciarli aperti. Ecco questo fa sì che si spreca i quantitativi molto importanti di risorse, di pregio, di risorse potabili che invece andrebbe assolutamente evitato. Rassicurazioni anche dal punto di vista della salubrità di queste acque, situazione che nel complesso è migliorata rispetto agli anni 80 e 90. Abbiamo avuto tutta una serie di episodi di cui quello dei FAS probabilmente è il più noto di contaminazione, ma abbiamo ancora molte aree dove le acque prelevate a scopo acquedottistico possono essere utilizzate senza subire trattamenti di impotabilizzazione. Abbiamo delle cose molto importanti da tenere conto che sono in particolare i cosiddetti microinquinanti che possono essere dai metaboliti dei diserbanti come la trazina che si usava negli anni 80, e gli anni 90, che anche in piccole concentrazioni possono essere dannose alla salute e che tendono a persistere nell'ambiente idrico sotterraneo. Però in generale nel Veneto abbiamo la fortuna di avere ancora risorse idriche sotterranee di particolare qualità. Il nostro tour tra i comuni della provincia di Padova oggi ci porta nel territorio della Bassa, più precisamente a Solesino, un comune che in tema occupazionale detiene un record molto particolare, il più alto tasso di liberi professionisti della provincia di Padova. Tante sono le iniziative che il comune di Solesino in provincia di Padova ha messo in campo per incentivare lo sviluppo delle attività commerciali, nonostante la posizione decentrata rispetto al capoluogo. Il commercio gode di un buon stato di salute, con 830 partite IVA in essere, ossia una ogni otto abitanti, l'equivalente ad una ogni tre abitazioni. Solesino dunque è conosciuto come un grande centro commerciale naturale, capace di attrarre i cittadini anche dai comuni adiacenti, in particolar modo durante il mercato della domenica. Con 120 banchi, infatti, è uno dei mercati più prestigiosi del circondario e il comune ha l'intenzione di continuare a valorizzarlo. Solesino è motivo di interesse perché, come amo io dire spesso, è un vero e proprio centro commerciale naturale, dove ogni domenica mattina ci sono 120 bancarelle, tutte le attività commerciali aperte, ma tendenzialmente noi abbiamo rivitalizzato il nostro centro paesano e continueremo su questa strada facendo molti eventi musicali o gastronomici che ci permettono di andare incontro alle esigenze di famiglie e anche dei paesi limitrofi, ma portandole nel nostro territorio ci permette di dare visibilità e che i nostri negozi siano proprio una vetrina del paese. Adesso parliamo di arte e cultura, parliamo nella fattispecie del premio Mestre di Pittura. Oggi si è svolta una delle premiazioni previste. A poco più di 20 anni, Carlotta Mazzariol, l'artista autrice del quadro dal titolo Ricordo quando ero bambina, realizzato nel 2022 con la tecnica dell'olio su tela è aggiudicatosi il secondo premio del Circolo Veneto nell'ambito del premio Mestre di Pittura. Giunto alla settima edizione è divenuto iniziativa culturale di valenza internazionale di crescente prestigio e diffusione. Il dipinto, così come gli altri vincitori, ora sarà esposto nella sede comunale di Mestre e successivamente nei musei della città dopo essere stato acquisito dal Comune di Venezia in modo permanente. È bello pensare a una persona che abita qua, giovane, così giovane, che possa immaginare di poter fare qualcosa. È l'idea del talento e tutti ce la possono fare. Credo che sia un discorso di generosità e questo va ringraziato Cesare Campa, all'organizzazione del premio Mestre, ma tutta la città di Mestre di Venezia che crede e ha sempre creduto nei giovani. L'opera di Carlotta Mazzariola, nata nel 2001, si concentra sul tema del ricordo, ricercando nei momenti realmente vissuti un istante che diventi rappresentativo della sfera emotiva. Caratteri essenziali, poche e veloci pennellate, che poi si sviluppano nel loro contenuto con i colori olio su tele più grandi. Ricordo quando ero bambina, quest'opera che ha un titolo, diciamo, innocente, se vogliamo, viene ripresa chiaramente dai miei ricordi personali, mi aiuto con delle fotografie e le rielaboro attraverso questa pittura molto acquosa anche, nonostante sia realizzato ad olio su tela e rappresenta ciò che effettivamente si vede. Quindi io personalmente con mia nonna quando ero più piccola. Fatti, episodi e personaggi storici a proposito di arte e cultura. Comincia così il nostro almanacco del giorno, oggi dedicato ad un personaggio unico, simbolico, appunto per la nostra arte e la nostra cultura, che nasceva quasi 550 anni fa. 548 anni fa nasceva Michelangelo Bonarroti, uno degli artisti capisaldi del Rinascimento. Egli è stato dapprima scultore, poi pittore, poi poeta e infine architetto. A 12 anni approda la bottega di Domenico Ghirlandaio, uno dei più rinomati artisti dell'epoca, per poi completare la sua formazione presso il Giardino di San Marco, un'accademia di giovani artisti sostenuta economicamente da Lorenzo il Magnifico. Sarà proprio il signore di Firenze, colpito sin nel profondo dalle sculture del giovane Bonarroti, a diventare il suo primo mecenate. Michelangelo poteva godere dell'appoggio di altre illustri personalità, come il cardinale Jacopo Galli, Papa Alessandro VI Borgia, Papa Giulio II, ma ciò nonostante dimostrò di possedere una forte indipendenza creativa mai vista prima di allora. L'artista infatti fu il primo a realizzare opere senza un preciso committente, destinate ad essere vendute a chi ne fosse interessato, cosa che per l'epoca costituiva una novità assoluta. Questo spirito intraprendente è da ricondurre al suo carattere bizzoso, che gli permise non solo di raggiungere i livelli altissimi di bravura, ma di non lasciarsi mai intimidire da nessuno, nemmeno quando Agnolo Doni, uno tra i tanti committenti, aveva cercato di pagare il dipinto che aveva commissionato a un prezzo più basso di quanto concordato e lui, di tutta risposta, si riprese l'opera e lo obbligò a pagare il doppio per riaverla. La lista dei capolavori di Michelangelo è infinita e molto varia. Alcuni, come il Tondo Doni e il David, risalgono al suo periodo fiorentino, mentre il Mosè e le pitture per la Cappella Sistina sono stati realizzati a Roma. In particolare, il giudizio universale, come disse il poeta tedesco Goethe, è un capolavoro di proporzioni colossali che da solo riesce a fornire un'idea di ciò che l'uomo è capace di raggiungere. Michelangelo ricercava nell'arte e l'umanità. Egli vedeva in un blocco di marmo una figura imprigionata che doveva a tutti i costi liberare e rendere visibile al mondo. Attraverso la tecnica del non finito, che consiste nel lasciare incompiute parti di una scultura le cui membra sembrano intrappolate nel marmo, egli accentuava il realismo, dando l'impressione che la figura fosse immobile, non perché inanimata, ma perché impossibilitata a muoversi. Un esempio sono i prigioni, le statue situate nella tomba di Papa Giulio II, che sembrano lottare eternamente con la materia. Lo stile pittorico di Michelangelo si caratterizza per una ricerca della tridimensionalità e dinamicità che egli trasla dalla scultura. Espone il corpo umano nella sua anatomia e costruzione, facendo emergere dei muscoli promitativi, perennemente in tensione, che evidenziano il volume e il movimento. Le figure, la cui virilità è sistematicamente espressa nelle pose, appaiono coordinate in una sorta di pittura sinfonica. Sono tutti i corpi virili nel loro insieme a formare la vera opera d'arte. Non mi resta in chiusura che ricordarvi tutta la programmazione di TV7 Triveneta all'appuntamento in seconda serata con il film Kings, con Daniel Craig e Ale Berry. grazie per essere stati con noi. Il telegiornale vi dà appuntamento a tutte le prossime edizioni. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.